Musica Ragazzi ci siamo Oggi è arrivato quel giorno Quel giorno che avrei preferito non arrivasse mai Ovvero l'incubo di ogni uomo Ovvero guardate chi c'è in lobby con me Insieme a me e Relix Guardate un po' Incredibile Braga Xei Dovinate un po' chi è Braga Xei Braga Xei chi sei presentati Sono Braga Matte bella oggi ragazzi salutate Ragazzi questo è un video un po' diverso Perché Braga ha preso la play Quindi potrà giocare insieme a noi Ovviamente questo sarà l'unico caso isolato in cui cederà questo E cosa dovremmo fare oggi in questo video Vista appunto la sua experience All'interno di questo gioco In generale su Call of Duty Abbiamo deciso di fare una cosa già fatta in precedenza Ovvero giocare per proteggerla E farla sopravvivere senza mai farla morire E al punto che a differenza degli altri video In cui diciamo da proteggere c'era Ivan Eh persone di questo tipo E comunque non scarsissime ecco Lei è proprio un livello molto molto basso Cioè lì proprio non ha mai giocato Quindi obiettivo proteggerla Farla sopravvivere Braga tu dovrai fare quello che ti diremo noi Camperare Sarai una pianta Ok una roccia Guarda Braga Ti ho riservato una bella cunetta per te Guarda qua Qua guarda Questo buco qua guarda C'è un buco perfetto per te Mi raccomando muoviti ogni tanto Perché sennò ti espelle Noi avanziamo un po' Matte tu stai indietro da lei Io sto un po' più avanti Ok 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 Mi raccomando Boviti brava Braga Brava Braga Brava 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 Tu stai dietro Io sto a un centro mappa Oh cazzo Questi mi Mi empa Il problema è che io non vedo niente Io non vedo niente Tanto muoviti Brava Braga Tanto non ti vedono nemmeno loro È reciproca la cosa Matte guarda a sinistra anche Io cerco di non avanzare ovviamente Ogni volta che lei muore 5 euro per i pollano i due Sì è vero Braga Non l'abbiamo detto a questa cosa C'è una claudola che dice Che se tu muori Ci devi pagare Una cauzione Sì infatti Ma che buono La cauzione varia dai 5 ai 10.000 euro Vabbè Matte Sempre molto moderato con le battute Credibili soprattutto Realistiche Non riesciamo a registrare il video ancora Mattei ma quello è ancora là sopra Pezzo di merda Oh questo sta pushando Non abbandonare Braga per favore Probabilmente Braga e te finiremo con 0 uccisioni E 0 morti e lei vuole fare tipo 20 uccisioni Di 40 morti Meglio che non stia facendo nessuno Vuol dire che Braga è il sicuro Vuol dire che Braga è protetta Io potrei che gli fa fare una Guarda ma raga ho un regalo per te Dove sei? Sto arrivando Mi stai spaventando Ma se muori il coso lo perdi Lo sai però Lo so però vabbè Intanto mentre son vivo Se proprio dovesse succedere qualcosa Realistiche dove sei? No te mate 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 Davanti mate Oddio c'è uno che sta facendo le kill mate Ah no sono qua Perché se loro passano muoiono qua Mate 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 Ma sento dei salti Perché c'è un alleato che mi sta guardando male? Vedi di coprire È sconvolto Cerca di capire perché sei ferma da un'ora È perché tu sia 0 uccisioni Eh no mi stai qua E' un astrellato Stanno pushando troppo avanti Sono morto No 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 Braga non morirete prego Braga non farti vedere per nessun motivo Sto correndo Tra la braga Stai ferma eh Oh cazzo braga ne ho una fianco Mi sento male No serio? Oh cazzo si stanno pushando braga Te li sto detonando Ok Io ci sono anch'io Perfetto No mate 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 Oh cazzo ho sparato lontano Ecco questo è il problema Questo è un problema Braga se dovessimo dire Matte tu non ti muovere Tu sei comunque Ragazzi se dovessimo dire C'è il tasto abbandona partita pronto No no Matte no 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 Braga no Quanto l'altano No 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 Ho ammazzato sto cane Non dacci My girl Aspetta un po' che piazza Un po' di roma Mi sa che ho sbagliato a sparare Sai perché Hai sparato Oh cazzo Hai sparato perché l'hai Perché vedevo che stava venendo dalla mia parte Spaventata Correte qua Antti Tranquillo la difendo io Braga x6 Ho anche corazza adesso da usare Maffanculo medio che Bene Io sono in streak se mi fa uscire un attimo Ma che prendo le streghe gioca per la vita E stai lì Fire bravo Va bene Va bene Stai a morire Mi ha scassato la minchia Sono tutti li matte Non ho sparato male ma te Ho sparato male Ho sparato male Ho sparato male Ho sparato male Dai fermo Ho dato corazza Non usare in due Braga braga no braga stai ferma braga o cazzo no siamo lontanissimi hanno il genna c'hanno il coso di qualcosa No questo mi sponchilla non lo sanno che si ribraga Non lo sanno infatti però venendo a distruggere il coso io continuo vabbè guarda dove spono se volo fioca a te no No Vaffanculo Allora braga e guarda qua ti puoi mettere proprio a fondo spon o ti metti e no dentro la casa è rischiusissimo guarda fai vedere un po Qua guarda qua minchia guarda dove ti metti qua ma te tu stai dietro ma te tu stai dietro io sto avanti cerco di Minchia mi impegno al massimo per farli pure di tutti ti giuro Ok ragazzi stanno già pushando così come lo dico Ok perfetto ma te ma te guarda a destra È il punto che appena mi muovo minimo C'è uno ammazzato sopra casa le ho usato quello per risorgere e mi sta pushando l'ho ucciso Fermo un po Stanno pushando C'è uno di qua ce n'è uno di qua C'è uno di qua Preso lo preso lo preso Ma te non dirò per la braga eh Lo stava mirando guardalo Ce n'è uno ce n'è uno relli Lo preso Ok minchia mi avvicino sai perché mi sa che sono spazio L'uavvi Ma che questo è l'obiettivo di ammazzare braga in fondo all'osspuno Mi sa anche a me sai Tereva uno dietro mate tereva uno dietro mate Lo preso Ok c'è uno Piazzala subito Uno mate A morire leo L'ho ucciso Guarda braga si fa così ora Questa robot qua Ok io sto al centro mate Braga mi devo ammazzare Mi devo ammazzare Mi devo ammazzare La destra è scoperta Puoi andare a destra? Destra ok vado Mi sa che c'è un altro qua mate a sinistra Sinistra Bravo ok Perfetto vado a destra Vado a casa al centro Oh Ok Dove sono? Ok Uno al centro e gli altri al lato Bene Dai raga Dai 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 Manca sono sei minuti di partita braga Non ti preoccupare No ma vinciamo prima Dai Sono lanciati questi qua Corrono un sacco Quindi Sono slanciati Ah c'è uno lì al centro Bene Li sto cercando di respingere il più possibile io Cioè nemmeno li faccio avvicinare Cazzo Ti vedo il cazzo che li sono rassegnati Guardalo qua Mi sa che mi stanno pushando sai Oh cazzo Oh cazzo Uno l'ho ucciso Dai respawno un pezzo di merda Ok è morto Minchia Che c'è? Il tipo che ho ucciso ha urlato Merda mate c'è uno c'è uno c'è uno Dal lato mate dal lato dal lato dal lato Stai giù Anna stai giù Lo pigliamo insieme bravo È morto ok Braca in panico Questi stanno urlando ogni volta che li ammazzo Non hai capito Ma sta saltando qualcuno Un altro mate Due 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 mate No ho sparato a cross the map Ecco qua Le hai uccisi entrambi Torretta robot veloce Sto arrivando sto arrivando sto arrivando Hai salvato la torretta robot È troppo bella questa scena Oh Gesù Cristo Oddio Oddio Me l'ho ucciso Anna spara Diana No niente L'ho ucciso L'ho ucciso Salvata Non so cosa è successo Perché non ti ha sparato Ho visto braga attaccata da un tipo misterioso Urla Dire che non ho capito nulla raga è dir poco Non ho capito niente Volevo attivare schianto gravitazionale ma mi dice che se sono sdraiata non Ah ecco è furba È vero però Usa lo specialista per l'emergenza Quello dove non devi Mi stanno sparando Con lo shite addirittura Mi stanno sparando Ok con lo shite cosa posso farci Mi sta sparando a camera No il tempo è straga Ragazzi ho sparato a cross the map No ragazzi No ragazzi ci stanno pushando Braga siamo fottuti Braga siamo letteralmente fottuti Matte mi continuano a chillare Matte non ti far vedere No matte no no Tranquillo le mi stanno solo pushando Oddio 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 Cosa sta facendo Cosa ha fatto quest'uomo Mi sento male Mi sento male Cosa cazzo hai fatto matte Matte a destra A destra Ok Matte 27 1 No e ti fa il nuclear Mamma mia ragazzi No l'ho perso ormai il nuclear È stato il salvataggio più incredibile della storia Ma che cazzo 3 kg abbiamo vinto 3 kg abbiamo vinto Non è il momento di perdere Dai vi prego mi sconcero Non è il momento È un'agonia Let's go Ci godo Andiamo a Berlino Peppe Minchia braga ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta braga Mamma mia No ma l'ultima creep di matte Raga è leggendaria veramente Non so come ha fatto a fare quella roba là Però vabbè Ragazzi ce l'abbiamo fatta È stata dura Abbattuta Però ci siamo riusciti Tenteremo qualcosa di più ardo Sì Ho sparito a Braga Che ha fatto Diciamo un ruolo importantissimo Veramente complicato Ragazzi Ringrazio per aver visto il video E ci becchiamo alla prossima Bella Ciao Bella raga Ciao 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 Ciao